Ci consideravano come i vecchi obiettori, quindi da fare i servizi quelli più scarni. È stato un po' il momento un po' più difficile, il periodo estivo. È durato un mesetto e mezzo, finito dalla fine della scuola fino a luglio. Il momento più bello, secondo me, è proprio il contatto così solidale, sociale. Sia con i ragazzi appunto che anche con gli altri utenti. Avverti quella cosa, cioè che te stavi comunque contribuendo a dargli una mano in qualche modo. Niente, adesso c'è questo discorso del prolungamento e ho dato il mio consenso perché comunque io sono proprio indirizzato lì a scuola e quindi fino a maggio dovrò stare in quel ruolo lì, insomma.